Oggi si ritrova, riunisce la grande famiglia di Cittaslo International ancora una volta per ribadire l'importanza di questa scelta e il valore della proposta. Anche in un momento difficile legato alla pandemia le ricette, il modello futuro proposto da Cittaslo rappresentano davvero una straordinaria opportunità. Come città di Chiavenna siamo particolarmente orgogliosi per la richiesta che Cittaslo International ci ha fatto di coordinare il lavoro sul turismo, in particolare sul turismo outdoor. Significa mettere al centro il nostro territorio, i nostri percorsi, i sentieri, le vie storiche e trasformarle in opportunità, in una proposta turistica. Per questo ci mettiamo a servizio di Cittaslo da domani per costruire dei pacchetti innovativi che trovino senza dubbio la risposta da parte dei tanti turisti che vogliono scoprire un mondo, una città, una comunità particolare di cui Cittaslo è sicuramente ambasciatore nel mondo. Quindi una sfida nuova che inizia a partire dai sentieri, dalle realtà magari a volte poco conosciute ma che danno grandi soddisfazioni a chi le percorre e a chi le vive. Quindi una nuova pagina per la nostra città, indubbiamente, ma anche per l'Associazione Mondiale. Chiavenna è a disposizione, rinnova l'invito a venirci a trovare, a scoprire quelle che sono le nostre caratteristiche, ma soprattutto da domani siamo al lavoro per costruire proposte concrete che trovino davvero grandi soddisfazioni per noi e per le nostre comunità.